musica 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 ma babila ma tu cagliare la mazza ma facci la mit facci la mit musica 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 ma stanno giocando non siamo entrati e guarda dai dai va bene dai va di nuovo po no se noi facciamo fase a 10 euro che cambia bravo bravi bravi è vista di odare più chiusi ehi ma che è? che è stato? no francis bravo cristian allarghi dai va bene bravo va bene bravo va bene bravo ma vincenzo bisogna fare la visita al portapetro che mi è combinato vado per tornare figa lei bravo 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 per me dai 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 bravo francesco bravo bravo il tuo il tuo pallone sono vecchi questi diciti Grazie a tutti Grazie a tutti Dai 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 un po' morbido Mi chiede più decine E' un'altra seconda media di Antonio Realini Sono andato dall'ortopedi Non dico poco che mi hai detto Tutto non c'eri Bravo Dai sono andato in più Bravo Maronna mio un cecchino Ernesto Ce l'hai ce l'hai Fragi nel caso Hanno segnato No sei punti Però una da recuperare Stessa cosa Loro la stessa cosa Non devono recuperare la partita Il genere Sta piano rava Questa cosa Grazie a tutti Grazie a tutti